Juliet è la rivista che da 33 anni si occupa di arte contemporanea. Il contemporaneo per definizione significa innovazione, ricerca, evoluzione, ricerca di forme espressive nuove, di contenuti, ma anche di modalità di comunicazione. Juliet come rivista non poteva non essere contemporaneo, per cui si è innovata anche nel linguaggio. Chi sta seguendo in questo momento questo editoriale concordato con Roberto Vidali, ovviamente che di Juliet è l'anima e il direttore, è perché lo ha probabilmente scaricato, inquadrato con la app Liar che voi troverete descritta nell'edizione cartacea. Realtà aumentata, cosa significa? Significa che con il vostro telefonino, con una rivista in mano, voi potrete accedere al mondo della multimedialità. Juliet non può essere esclusiva, non può escludere le persone dal suo linguaggio comunicativo e questo è il motivo per cui anche questo editoriale lo potrete trovare sul sito di Juliet, www.julietartmagazine.com. Il significato di questo non è un gioco solo per lanciare la multimedialità, per dimostrare che anche noi siamo all'altezza dell'innovazione, ma tutto rientra in un disegno editoriale generale per cui in questo momento l'offerta di Juliet si struttura su tre linee. Esiste l'edizione cartacea tradizionale che voi conoscete da 33 anni. Esiste da pochissimo un'app per iPad che si chiama Juliet Cloud Magazine ed esiste ovviamente il sito Juliet Art Magazine di cui vi ho già accennato. Se poi vogliamo esiste anche la pagina Facebook, non poteva essere diversamente. Quali sono le caratteristiche di Juliet Art Magazine cartaceo? Sapete già tutto. L'app nasce perché? Per portare Juliet in una versione dinamica, ricca non solo dei contenuti che trovate nella rivista, ma di tutto quel backstage di foto, immagini, commenti, anche video che una rivista cartacea necessariamente è costretta a tagliare. L'app la trovate su Apple Store, la potete scaricare. Avrà la stessa cadenza, un po' strana, quasi dimestrale di Juliet ed è assolutamente gratuita. Il sito www.julietartmagazine.com è curato da persone bravissime che sono capaci di tenere sempre viva l'attenzione sui contenuti del mondo dell'arte contemporanea. Questo è in sintesi quello che si intendeva dire con questo breve documento. È un rapporto che Juliet intende curare sempre nel tempo, rimanendo attuale e sempre al centro della vostra attenzione.